Il PD dice, rivendichiamo l'esperienza del governo Conte. Io dico, quando il governo Conte ha fatto venire i soldati russi in Italia, a me non è piaciuto. Il riferimento è alla prima ondata di pandemia, quando arrivarono in Italia. Allora, su questi temi giustamente si chiede a Salvini, ed è giusto, di fare chiarezza sui suoi rapporti con la Russia. Io ero in Parlamento con il PD all'inizio della legislatura e più volte sono intervenuto al Senato contro Salvini chiedendo chiarezza, si ricorda tutte le varie vicende, 49 milioni e compagnia bella. L'ho sempre detto, sono intervenuto io con altri colleghi. Oggi però, con la stessa chiarezza con cui richiediamo a Salvini di buttare via tutte le ombre, posso chiedere se qualcuno ha riflettuto su ciò che ha fatto il governo Conte quando ha fatto venire i soldati russi? Perché altrimenti si dà l'impressione di utilizzare politica estera soltanto a fini interni.